Mi chiamo Tommaso Micodimane e sono Academic Fellow all'Università Bocconi di Milano e a Sinistra di Ricerca all'Università di Torino. Di recente è stata pubblicata la mia monografia e sono davvero molto contento dell'invito di Sant'Anna Legal Studies a potervela qui introdurre brevemente. Il titolo dell'opera è Sulle spalle dei giganti, la questione metodologica del diritto comparato e il suo racconto, ed è stata pubblicata nel 2022 da editoriale scientifica all'interno della collana Opere Prime dell'Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo. La breve presentazione che vi propongo è suddivisa in due parti, una prima dedicata alle premesse e alla struttura del libro e una seconda dedicata alle sue conclusioni. Anzitutto la prima. Mi sono approcciato alla questione metodologica intesa come al dipattito sui metodi con una sorta di timore reverenziale, credo inevitabile trattandosi di un tema sul quale si sono cimentati i grandi maestri e giganti della comparazione. Al tempo stesso il mio obiettivo non era quello di farmi portatore di una mia personale ricetta sul metodo, bensì quello di sperimentare un modo di approcciare il tema che nello specifico mettesse in collegamento i contenuti dei metodi con il contesto storico, politico, sociale e culturale nel quale sono stati plasmati, mostrando in definitiva come i metodi della comparazione non sono prodotti in laboratorio ma nascano, si evolvano e si trasformino a contatto con la realtà che li circonda. L'arco temporale che ho preso in considerazione in questa ricerca va dal 1850 al 2000 concentrandomi prevalentemente sul diritto comparato in Europa e negli Stati Uniti ma con qualche licenza di digressione, anche oltre occidente, in particolare in Africa, in Asia e nel Meglio Oriente. All'interno di questo perimetro temporale e geografico mi sono perciò messo sulle tracce dei luoghi di incubazione della discussione sul metodo e quindi sulle prime riviste dedicate alla comparazione, le prime cattedre, le prime associazioni di comparatisti, andando in qualche modo a ripercorrere anche il progressivo di venire della comunità dei comparatisti. Il libro si articola su tre capitoli che declinano la questione metodologica con riferimento ad altrettante fasi di sviluppo del diritto comparato. La sua fase embrionale dal 1850 al 1900, capitolo primo, la sua nascita e infanzia dal 1900 al 1950, capitolo secondo, la sua maturazione dal 1950 al 2000, capitolo terzo, che quindi si conclude a cento anni di distanza dal congresso fondativo del diritto comparato in quanto scienza moderna che coincide con il congresso di Parigi del 1900. L'esigenza di addentrarmi in questi 150 anni di storia di comparazione nasce dall'osservazione dello scenario contemporaneo del diritto comparato, che registra una sorta di scollamento tra utilizzo del metodo e teoria del metodo, se vogliamo, tra methods in books e methods in action. Per qualche motivo, infatti, nonostante negli ultimi vent'anni sia aumentato in modo esponenziale il numero di pubblicazioni dedicate al metodo, non sembra essere cambiato di fondo e in modo conseguenziale l'atteggiamento dei comparatisti riguardo al metodo, che nel complesso rimane reticente, come osservano alcuni, nell'esplicitare i propri metodi, in altri casi superficiale, in altri fondamentalmente insicuro della propria identità metodologica. Molti altri osservano anche come la molle di pubblicazioni che è aumentata nel corso dell'ultimo ventennio dedicata al metodo abbia finito per costituire una sorta di genere letterario a parte, che fatica a mettersi in comunicazione con la comparatistica generalistica e a filtrare al punto da cambiare il comportamento e l'atteggiamento dei comparatisti riguardo al metodo. L'obiettivo del mio libro è precisamente quello di inserirsi in questo scollamento tra books ed action metodologico, cercando di comprendere come e perché si è andato a solcare nel tempo e, in generale, come sia cambiata la questione del metodo e i suoi protagonisti. Tutto questo con uno sforzo appunto di contestualizzazione, che ha significato ad esempio che per esaminare l'irrequietezza metodologica di uno dei protagonisti del diritto comparato come Raimond Salei è stato necessario mettersi in contatto e studiare anche la Francia del fine ottocento e la stessa irrequietezza che caratterizza la terza repubblica francese nello stesso periodo di Salei. E questo esercizio è stato applicato in qualche modo con riferimento ad altri protagonisti della questione metodologica in paesi ed in periodi differenti, mostrando in conclusione come la traiettoria dei metodi sia strettamente collegata alle biografie dei suoi protagonisti che rappresentano un tassello fondamentale per una comprensione più piena dei loro metodi. Seconda parte della presentazione. Non è facile tratteggiare brevemente le conclusioni principali del libro, anche perché ciascuna delle fasi considerate si presta a considerazioni specifiche e racconta di generazioni di comparatisti anche molto diverse tra di loro. Ho tuttavia cercato di individuare cinque punti di carattere generale che in qualche modo attraversano e si depositano nelle pagine del libro. Punto 1. La definizione del metodo. Il metodo non è un concetto immutabile. I suoi contenuti, i suoi significati e le aspettative dei comparatisti rivolte al metodo variano a seconda del periodo storico. Discutere di metodo nel 1900 è sostanzialmente diverso rispetto al 1950 e rispetto al 2000, diverso in termini di tematiche, di modi e di luoghi della discussione. Occuparsi di metodo quindi, e qui anche il suo fascino, implica un continuo sforzo di attualizzazione dei suoi significati, che si riverbera sulla formazione dei comparatisti, che se per un verso deve essere in grado di intercettare le sfumature contemporanee del metodo, peraltro può fare tutto questo solo sulla base di una solida consapevolezza storica di come si sia evoluto nel tempo il metodo. Ed è precisamente a questa consapevolezza che il mio libro ha provato ad offrire un contributo. Punto 2, la ricerca sul metodo. La questione metodologica scorre in alcune fasi in modo carsico, e questa è la difficoltà di ricerca. Ossia c'è una parte sommersa della comparazione, popolata da intuizioni metodologiche che solo con il tempo verranno comprese e ricomprese dalla stereografia, e in alcuni casi non lo sono ancora pienamente. Mi riferisco ad esempio alle conversazioni e seminari sostanzialmente clandestini che si tengono nell'abitazione di Eduard Lambert nella prima parte del Novecento, con studenti egiziani e francesi, e che peraltro saranno prodromiche alla fondazione dell'Istituto di Diritto Comparato di Lione nel 1921, il primo in assoluto di questo tipo. Mi riferisco ad alcuni autori non occidentali, che in quanto tali sono stati tradizionalmente considerati secondari dalla riflessione comparatistica, alle quali ho provato a restituire la centralità che meritano all'interno del dibattito sul metodo. Mi riferisco altresì alle conversazioni epistolari tra i comparatisti. In periodi in cui le riviste sono ancora poche, in cui le occasioni di scambio sono limitate, quel tipo di conversazione è qualcosa di sostanzialmente diverso da uno scambio di mail contemporaneo, perché sono al tempo stesso conversazioni più intime e più scientifiche nei loro contenuti. Emblematico in questo senso è il ritrovamento peraltro recente di circa 400 corrispondenze tra Geni e Salei è che ci restituisce una serie di conversazioni straordinarie di alto tasso metodologico. Punto 3. La comunità dei comparatisti. L'assetto comunitario, il senso di aggregazione dei comparatisti è qualcosa di fondamentale per comprendere le evoluzioni del metodo. Per buona parte del Novecento i comparatisti si sentono a volte da un senso di diffidenza se non di aperta ostilità da parte delle altre scienze giuridiche. Qualcuno osserva come nelle prime fasi il tasso di litigiosità scientifica tra i comparatisti sia estremamente basso, quasi a non poterselo permettere, dovendo mostrarsi come una comunità coesa al proprio esterno. Se tutto ciò è vero non sorprende constatare come le principali tappe evolutive del metodo siano cadenzate non tanto da intuizioni di singole personalità ma dal fermentare di idee all'interno di una collettività di studiosi, sebbene a volte ispirata da personalità carismatiche della comparazione che pure fanno parte della storia metodologica. Punto 4. Il ruolo del metodo. Lo strumento sul quale storicamente il diritto comparato punta per ottenere la propria emancipazione dalle altre scienze giuridiche è quello del metodo, che viene individuato non a caso dagli organizzatori del congresso di Parigi del 1900 come il suo aspetto centrale. In altre parole il diritto comparato associa la propria nascita alla proposta di un nuovo metodo per le scienze giuridiche. Da allora chiunque intenda farsi promotore di un certo grado di innovazione sul fronte metodologico non può prescindere da confrontarsi con questo tema, che non a caso è il terreno prescelto dai figli per fare i conti con i padri e la loro eredità. Punto 5. Quindi i maestri e i giganti del diritto comparato. Se è vero che il terreno metodologico è quello sul quale assistiamo al confronto e a volte allo scontro tra generazioni diverse di comparatisti, è altrettanto vero che questo tipo di dialettica avviene secondo modalità diverse a seconda del periodo. In alcune fasi questo confronto avviene all'insegna dell'identificazione con i maestri e i loro metodi. Altre volte, più spesso, avviene all'insegna del parricidio scientifico, ossia della negazione di qualsiasi linea di continuità con i metodi di chi ci ha preceduti. Altre volte ancora, e questa è una terza via, se vogliamo, più coerente anche per lo scenario contemporaneo ed è quella in cui non ci si definisce in quanto appartenenti ad un determinato orientamento metodologico. Non si è funzionalisti, non si è contestualisti, non si è critici del diritto, ma si è anzitutto comparatisti e in quanto tali in grado di avere familiarità con diversi metodi e, a seconda del progetto specifico, scegliere quale o quali metodi utilizzare. Siamo quindi transitati nella fase post-ideologica della questione metodologica. In quest'ottica, essere fedeli ai giganti del diritto comparato non è un esercizio di astrazione, ma significa continuare la loro ricerca innovativa, al costo, se necessario, di contraddire quanto da essi sostenuto, ma al tempo stesso riconoscendo quando si si trova sulle loro spalle. Si tratta perciò, in definitiva, di mostrarsi fedeli non a qualcuno, ma al diritto comparato e alla sua storia. Grazie ancora Sant'Anna Liga Studies e buona ricerca a tutti!